Buona dal punto di vista tattico, di prendere la palla nella partita, così ci sta che ovviamente si guarda il risultato, il tifosi, noi, tutti, questo è lo più importante, ma stiamo lavorando su una idea che ha portato questo staff tecnico, con la che andiamo fino alla fine, noi vogliamo giocare vero calcio e questo è lo che vogliamo diventare a fare, per questo se hai bisogno di tempo ci sta che si sbaglia o una partita come questa che ha capitato lunedì sera, ma noi continuiamo a lavorare perché siamo convinti tutti di questa idea che ha portato il staff nuovo e vogliamo anche giocare il vero calcio. Io ho sempre stato con la testa al Palermo a lavorare per me e per la società perché è mia responsabilità nel momento che ho firmato con Palermo, allora tutto questo mercato è chiuso e io ho sempre stato qua, per questo ho rimasto lo stesso Pippo e sono tranquillo, con la testa giusta e sempre provo di fare il meglio. Come calciatore provo ad andare tutte le partite per vincere perché sono un vincitore, mi piace questo, mi piace la partita dura come sono tutta qua in Serie A e io vado a giocare, vado a lottare per vincere e dopo lo che passa si vede dopo ma prima io vado con la mentalità positiva. Adesso vogliamo giocare il vero calcio, vogliamo trasportare la palla di piede a piede, fare lo spazio per il compagno, portare la palla noi difensori al centrocampista pulita, così possiamo diventare una squadra più forte perché così si gioca il calcio adesso e nel mondo. Noi abbiamo adesso un staff tecnico che ha questa idea, che si impegna a lavorare e noi anche come calciatori vogliamo farlo bello il calcio. Ci sta che si deve lavorare tanto per arrivare all'esito nella vita, niente si fa con l'aprire e serrare gli occhi, si deve lavorare tanto e noi siamo qua per lavorare e non mettere scusa, è stupido, allora dobbiamo lavorare tanto e pedalare per portare la squadra avanti. Io sono convinto che stiamo lavorando bene e alla salvenza neanche penso adesso, penso a partita a partita, come ho detto prima a vincere, a trovare i punti e andare avanti. Anche se si vince, se prendiamo tre punti non posso rimanere, abbiamo preso tre punti, devo lavorare per la partita che arriva. Ringrazio al mister, quando è arrivato a lui mi ha parlato, mi ha dato la fiducia, mi ha detto la sua idea di gioco e io sono contentissimo dell'atteggiamento di lui, della forma di lavoro dentro di lui è il suo staff perché la verità è che è professionista e che ha un'idea troppo moderna e dove io voglio essere parte di questa idea. Tutti sappiamo che io sono destro, è capitato che ho giocato due partite al sinistro ma per me è solo il legge di giocare, è un piacere perché mi diverto, sia a sinistra che a destra, al centro, ovviamente il ruolo che mi piace di più è al centro, tutti sanno, questo è il pensiero mio, ma se devo giocare a sinistro anche lo faccio con piacere e anche provo di fare il meglio per la squadra, per me e per tutti. Questi anni ho visto che i tifosi sono vicini alla squadra, vengono sempre a tifare forte anche alla fine della partita, noi ringraziamo perché loro sono lì per tifare noi tutta la partita sempre e vogliamo lavorare ancora più perché questa è una responsabilità e un comprometto che abbiamo con loro e vogliamo vencere per per far loro felici.